All'angolo di via Chiaia si mette un pezzente, è posto tutto il giorno e non accocchia niente. Pulito, dignitoso, non stendendo mai la mano, l'occhio è chiudato in terra per una giornata sana, la gente non lo guarda e non lo fanno apposta, per fare il mestiere, c'è una faccia tosta. Io ne conosco una, papina Fiorella, si fa a Santa Teresa vicino alla parrucchiella, se vede una cinque lire, il sangue va a stuorto, taglietta a nanzi piedi, è arreda, ti fai morto. Dai sordi con terresti, la sera va a cantina, te ne puro 600, tre cammere e cucina. Invece chi le Chiaia, misero e vergognoso, stanotte morte famma, povero e dignitoso. Grazie a tutti.